Notaresco e Pineto si ritroveranno di fronte per decretare la vincente del girone F di una stagione interminabile iniziata il 27 settembre 2020 proprio con lo scontro tra le due terramane ma a campi invertiti. In quella che fu la prima di campionato il Notaresco sbancò il Mariani Pavone in rimonta al vantaggio iniziale di Pierpaoli risposero infatti Cancelli e Dos Santos. Il 5 maggio scorso invece nel ritorno allo stadio Vincenzo Savini colpo esterno del Pineto grazie alla marcatura di Minnozzi. Questa la nota curiosa per il resto le due squadre arrivano all'appuntamento forse un po' stanche sono entrambe reduci dalle semifinali di mercoledì in cui il Notaresco ha eliminato il Matese e il Pineto l'Albalonga ma al tempo stesso desiderose di superarsi per freggiarsi del titolo di squadra regina del girone che ebbene dirlo non dà alcun diritto in chiave promozione. La formula della sfida. In caso di parità al novantesimo ed eventualmente dopo i tempi supplementari sarà la formazione meglio classificata a vincere in questo caso il Notaresco secondo al termine della stagione regolare. Il tecnico del Notaresco Epifani non potrà contare sugli infortunati di lungo corso Banegas, Bianciardi, Cancelli e Colombatti. Tantissimi comunque gli ex del confronto sono Benotto tra i padroni di casa, Aquatro, Bianciardi, Mancini, Olcese, Palumbo, Sciba, Speranza oltre allo stesso Epifani. Tra le fila del Pineto invece sono quattro, Salvatori, Romano Pomante ed il team manager Gianpietro Farina. Pomante avrà tutti a disposizione eccetto Bubà. Infine 300 i biglietti a disposizione da acquistare entro oggi online sul circuito Ciao Tickets in quanto i botteghini dello stadio resteranno chiusi il giorno della partita anche in caso di disponibilità di tagliandi. Dirigerà l'incontro Matteo Canci di Carrara, fischio di inizio alle 18.